Ehi Paul, allora, innanzitutto il perché di questo video. Il motivo è molto semplice perché molte persone all'interno di Slack ci stanno contattando, sia me che Paolo, per capire un attimino quali sono i prossimi passaggi in merito all'evoluzione di questa iniziativa. Allora, andiamo abbastanza sintetici. Paolo è diventato project owner sul progetto del bullone con il quale ha già fatto una call. Quindi lascio a te Paolo, spiegherò un attimino cosa state costruendo. Allora, è nata l'esigenza doppia, lato schillando, di avere un prototipo di progetto funzionante e quindi avevo molte richieste sul bullone. Ho organizzato due call, una con i volontari e persone in lato bullone. Abbiamo raccolto le esigenze, abbiamo messo giù un modello sostenibile per lavorare in remoto con persone che neanche si conoscono, di cui le competenze non sono neanche ben chiare fino a che si fa una call. e abbiamo organizzato tre team di lavoro. Un team che si occuperà di una parte di sviluppo, dove abbiamo tre sviluppatori, un team che si occuperà della parte grafica, anche lì abbiamo due grafici e mezzo, e un team che si occuperà della parte dei contenuti, perché le richieste che sono arrivate sono su questi tre ambiti. Io mi occupo di fare interfacce tra tutti e tre team e con l'associazione del bullone, perché ovviamente non hanno spesso tutte le competenze che servono, quindi faccio il traduttore tra un'esigenza palesemente umana e la fattibilità del lavoro in remoto di volontariato digitale, secondo anche le disponibilità che hanno dato tutti i volontari. Questo serve per fare un po' un prototipo e penso che stia funzionando abbastanza e adesso passo la palla a Filippo per il progetto di Addio Pizzo Travel, che è l'altro progetto che sta partendo. Sì, volevo fare una domanda, nel senso i team di progetto su il bullone sono già al completo, cioè le esigenze a livello di skill e di organico sono già... In questo momento siamo già full, sì, siamo già full e ci siamo strutturati con tre team leader, così abbiamo una struttura che rispecchi il più possibile una struttura lavorativa e organizzativa seria e funzionale. Ok, apro e chiudo una parentesi molto sintetica. Gli enti e organizzazioni che vogliamo supportare devono comunque essere, cioè supportare in maniera più operativa, più costruttiva nel medio-lungo periodo, devono essere comunque delle organizzazioni no profit o degli enti che abbiano un risvolto, un impatto sociale. Sociale, assolutamente. Perché abbiamo visto che ci sono arrivate un sacco di richieste da parte di scuole, ma che erano delle richieste che sono state praticamente risolte semplicemente con delle consulenze a livello di messaggistica, di scambi di messaggi all'interno dei canali su Slack. Invece ci sono appunto altre organizzazioni come appunto Il Bullone, piuttosto che Addio Pizza Travel, che sono delle organizzazioni all'impatto sociale, che meritano un approfondimento maggiore, proprio perché si sposa di più con la mission di schillando. Di schillando, assolutamente. Quindi questa è un attimino la premessa. Non perché non dobbiamo aiutare o supportare piccole attività locali, piuttosto che altro, ma ci siamo resi conto che comunque sono sempre delle richieste abbastanza semplici, nel tipo quale piattaforma possiamo utilizzare per fare delle conference call, piuttosto che quale piattaforma utilizzare per gestire team remoti. Cioè domande abbastanza semplici da smaltire. Detto questo, ieri io, lato mio, mi sto facendo un attimino carico del progetto di Addio Pizza Travel e ho strutturato, a differenza di Paolo, un flusso leggermente diverso. Questo perché? Perché Paolo ha ricevuto già durante la zoom call delle richieste, gli chat da parte dei volontari per aderire a quel progetto, che sono state gestite direttamente in real time, tra virgolette, in un paio di giorni. Quello che invece sto cercando di costruire è un flusso, un framework un po' più strutturato, partendo da una video intervista con i ragazzi dell'organizzazione, quindi in questo caso Addio Pizza Travel, che verrà poi embeddato all'interno di un blog post su blog.skillando.com, dove ci saranno tutte le informazioni un po' più dettagliate, non soltanto in merito a quello che effettivamente fa quell'ente e quell'organizzazione, ma delle specifiche un po' più puntuali in merito alle esigenze e alle competenze di cui hanno bisogno. Quindi io credo che in un paio di giorni metterò in piedi questo blog post con tutte le varie informazioni e poi lo linkerò all'interno del canale General, in modo tale che chi vuole effettivamente partecipare a quella missione si può iscrivere in maniera organica all'interno di quel blog. Questo è un po' il succo di quello che stiamo costruendo, giusto per condividerlo con voi, proprio perché in molti ci hanno chiesto adesso quali sono i prossimi passaggi. Tenete comunque conto che sia io che Paolo, che come tutti voi, suppongo che stiamo facendo queste attività on top a tutto il nostro lavoro quotidiano, quindi magari non abbiamo dei tempi di reazione super veloci, a me stanno entrando un sacco di lavori o un po' di casini in giro. Quindi se non siamo così reattivi è semplice per questo motivo. Grazie della comprensione. Va bene, per qualsiasi cosa scriviamoci su Slack e ci veniamo a giornate lì. Ciao ragazzi, ciao!